Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi finalmente sono riusciti a rimettere disponibile la modalità orda, tanta tanta roba! Ne avevamo già parlato ieri, sono di certo sicuro che adesso l'avete provata tutti! Modalità che io apprezzo tantissimo perché riporta appunto una specie di arcade nel battle royale ed è davvero meraviglioso poter giocare con tre amici senza dover affrontare altre persone ma semplicemente contro il PC! Nel video di oggi ragazzi però parleremo di un glitch incredibile con la pistola a focile che più o meno vi potrà permettere se utilizzato nella maniera corretta di vincere qualsiasi one versus one ragazzi! È davvero assurdo! Ve lo farò vedere in un gameplay ma si rompe un nuovo record mondiale! Stiamo parlando ragazzi del numero di kill fatte in coppia! Vi ricordo che a maggio, quindi il mese scorso, si ruppe nuovamente il record ma qua ragazzi facciamo molto molto di più! E ovviamente un po' di leaks per tenervi sempre aggiornati su tutto quello che succede nel dietro le quinte di Fortnite! Prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il codice creator xyuderone! Grazie di cuore ragazzi per supportare il canale, per sostenerlo mi raccomando! Non dimenticate di iscrivervi e soprattutto attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima la domandina raga! Dai ve la faccio sempre! Ci tengo tantissimo lo sapete! A leggere i vostri commenti qui sotto ragazzi! Domandina di oggi molto personale, molto personale! Quali sono tre cose che ami di Fortnite? Pensaci bene! Tre cose che proprio ti fanno dire sì! Le mie ragazzi! Fortnite è gratis! Innanzitutto! Questo è il suo punto a favore migliore! Fortnite ha delle skin fatte in una maniera stupenda! C'è davvero da dire che il team grafico di Epic Games è insuperabile! Numero 3! Con Fortnite c'è sempre qualcosa di cui parlare perché ne succedono di tutti! I colori! Ditemi quali sono le vostre tre cose che amate di Fortnite qua sotto nei commenti! Ma quindi! Ciancio le bande! I bandole ciance! Andiamo subito a vedere innanzitutto una cosa! Qua infatti avevo letto nei commenti del mio live che alcuni avevano problemi! Questo è un tweet ufficiale di Epic Games che ci dice Siamo a conoscenza che ci sono dei problemi per i giocatori che cercano di loggare su Fortnite Mobile con Google o Facebook! Quindi parliamo solamente dei giocatori che utilizzano un device portatile! C'è però ragazzi un metodo per riuscire ad ovviare al problema e lo leggiamo molto rapidamente! Step numero 1! Loggare nel tuo account di Fortnite con il browser nello stesso metodo che hai utilizzato per creare il tuo account! Quindi principalmente dovrebbe essere Chrome se utilizzate Android o altrimenti Safari probabilmente se utilizzate iOS! Step numero 2! Andate nella sezione account password e sicurezza e create una nuova password! Step numero 3! Confermate le modifiche della vostra password! Attenzione perché dicono potrebbero chiedervi anzi vi chiederanno sicuramente il verification code! Quindi vi arriva una mail col codice e il link da cliccare! Step numero 4! E qua ragazzi sono costretto a spostarmi che non leggo! Step numero 4 dice aprite... Metto qua mi metto! Aprite Fortnite e premete sui tre bottoni! Quelli che più o meno ecco stanno qua dove sono io adesso ragazzi! Per poter disconnettere il vostro account dovete sloggarvi! Step numero 5! Riloggate su Fortnite con la selezione di Epic Games utilizzando ovviamente il nuovo nome utente e la nuova password che avete messo! Dovrebbe questo ragazzi risolvere tutti i problemi se aveste avuto questi per loggarvi con i vostri device! Ma andiamo avanti ragazzi e la vediamo! La vediamo qua ragazzi la pistola a focile! Pistola che è davvero fortissima se utilizzata nella maniera corretta ragazzi! Un danno se non ricordo male di 75 o qualcosa del genere! Beh ragazzi c'è un glitch incredibile! Ve lo voglio far vedere! Ve lo voglio far vedere se lo trovo! Eccolo qua ragazzi guardate che storia! Qua siamo e come vedete prossimi ad un fight! Guardate che cosa fa questo player! What the hell? Si spara con la pistola alla base della costruzione nemica! Ve lo faccio rivedere! Spara con la pistola alla base della costruzione nemica! E per un bug quello che volete viene automaticamente teletrasportato dentro il quadrato uno per uno avversario! Quindi senza nessun problema riesce a killarlo! Anche perché prendete alla sprovvista ovviamente gli avversari! Allenatevi vedete fino che non lo fixano ragazzi! Che potreste portarvi a casa un po' di one versus one! E quindi incrementare le vostre kill! Ma andiamo avanti ragazzi! Ed ecco un'altra figata! Ieri vi avevo già anticipato la nuova modalità che era disponibile nelle tre ragazzi! Beh andiamo avanti perché ce n'è davvero ancora! Ecco qua di nuovo un gameplay molto più ad alta definizione! Come vedete la nuova skin punto di rottura! Si parte già nella modalità con il proprio medic in mano! E si può praticamente selezionare qualsiasi oggetto! Come vedete gli oggetti diventano di un colore bluastro! Noi li possiamo selezionare e guardate! In questo momento lui si è trasformato nella patumiera! Quella che c'è per terra ogni tanto quando camminiamo! Sai quelle quattro bottigliette, quelle quattro lattine! E adesso fra due secondi guardatela in alto! Adesso parte l'ondata di avversari! Ma c'è un tipo che si è trasformato in erba ragazzi! Adesso arrivano gli avversari che giustamente non lo vedono! E' come se vedeste per terra delle lattine! Vado leggermente avanti! E no forse l'ho già fatto nella registrazione! Perché è veramente interessantissimo! Cercare anche poi di capire come si vince! Quanti round si hanno! Perché per il momento ancora si vede solo nelle tre! Questo come si dice questa modalità di gioco! Ma nel giro di due, tre massimo un mesetto! Verrà resa disponibile per tutti! E guardate guardate! Si muove con le lattine! Potresti anche diventare un camper! Come vedete siamo in creativa! Perché ci sono i gettoni! C'è addirittura uno nascosto e imboscato come un cespuglio! La visuale da questa angolazione è veramente meravigliosa! Perché vedi proprio Fortnite come se fosse ingigantito! Quindi ragazzi staremo a vedere! Ma volevo passare direttamente dalla modalità Propomatic! al nuovo World Record ragazzi! Ve ne avevo già parlato! Il record precedente di Kill! Allora fatemi un attimo ricordare di chi era perché non me lo ricordo! Però ce l'ho segnato! Il record precedente di Kill! Non ce l'ho segnato! L'abbiamo completamente perso! Era comunque stabilito a maggio di quest'anno! Per un totale di 48 Kill in duo! Beh ragazzi! Beh ragazzi! Ho degli spezzoni finali di una duo incredibile dei giocatori Ryan Matthew 14 e TTV Daddy the Boy! Che fanno in due 51 Kill ragazzi! Assurdo! Assurdo! Io ho visto il video originale dura circa 10 minuti e qualcosa proprio un remake di tutte le loro azioni salienti in game! Ma ragazzi! Record che sarà probabilmente imbattuto per parecchio tempo! 51 Kill in due vuol dire farsi più di mezza lobby da soli! E devi avere anche una sorte buco di culo grandissimo! Perché cavolo! Cioè incontrare 51 persone non è proprio facile in partita ragazzi! Però qua vedete come lui va molto sciolto a farsi la gente! Qua addirittura lui ha 23 Kill nella fase finale dove il suo socio invece era stato abbattuto e quindi ha dovuto portarla a casa! Non credo però che abbiano vinto! E quindi credo che abbiano fatto 51 Kill ma mancava ancora qualcuno in lobby, in in game! Beh ragazzi! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video news! Mi raccomando! Un bel pollicione in su! Iscrivetevi al canale! Noi ci vediamo fra poco in live! Ciao!